Buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli e questo è Di Giallo su Radio DJ con un'altra serie di storie tenebrose del mondo della musica. Questa volta però non sono le vite dei musicisti ad entrare e uscire dalla metà oscura delle cose, ma direttamente la musica. Perché se facciamo una piccola indagine, ma proprio un'indagine criminale come nei gialli, sui soggetti delle canzoni, sulle storie che raccontano, scopriamo che dopo la parola amore viene la parola mistero. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di Issei Sagawa. Issei è un giapponese e all'epoca dei fatti, era il giugno del 1981, era uno studente di letteratura all'università della Sorbona di Parigi. Un ottimo studente. Da Kobe, in Giappone, era andato in Francia a studiare i movimenti d'avanguardia, perché a Parigi c'è una delle migliori università del mondo. Però non c'era andato solo per quello. A Issei piacciono le donne, ma a lui piacciono le donne di un tipo particolare. Gli piacciono alte, bionde e occidentali, e anche fin qui sembra tutto normale. In fondo anche da noi c'è sempre stato il mito della biondona svedese. Issei poi è un bel ragazzo, brillante, intelligente, simpatico. No, il problema è che a lui le ragazze così gli piacciono proprio tanto, ma tanto, troppo. C'è questa bella ragazzone olandese, René Hartveld, che studia con lui. Lei gli piace, gli piace tanto. Così l'11 giugno del 1981 Issei la invita a pranzo a casa sua. Magari possono parlare di letteratura, studiano tutte e due le stesse cose. Ma appena René si siede a tavola, Issei le spara la nuca con un fucine. Poi la fa a pezzi, la mette in frigo e ogni tanto ne mangia un po'. Perché questo è Issei, un cannibale. È in questo senso che gli piacciono le donne. Gli piacciono tanto. Quando la polizia lo arresta, Issei si giustifica in un modo molto semplice. Avete mai pensato, ti voglio così bene che ti mangerei di baci? Ecco, io l'ho fatto. È matto, naturalmente. E finisce in un manicomio criminale. Ma la sua storia colpisce tanto Mick Jagger che i Rolling Stones ci fanno una canzone. Ed è proprio di lui, di Issei Sagawa, che parla too much blood. Di solito c'è un messaggio nelle canzoni che parlano di crimine. I Rolling Stones volevano protestare contro la violenza sui media in un caso morboso come quello di Sagawa. E così l'hanno fatto, con una canzone paradossale che parla appunto di troppo sangue. A volte però, le canzoni criminali servono a denunciare, ad attirare l'attenzione su un caso dimenticato, su un errore giudiziario, su una battaglia per i diritti civili. Contro la pena di morte, per esempio. Per ricordare due anarchici finiti innocenti sulla sede elettrica, come Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Rubin Carter è un pugile di colore di Patterson nel New Jersey. È bravo Rubin, è forte e sarà sicuramente il prossimo campione del mondo dei pesi medi. È così forte che lo chiamano Hurricane, uragano, perché quando comincia a picchiare è un uragano di pugni che si abbatte sull'avversario. Una notte di giugno del 1967 Rubin è in macchina con un amico quando viene fermato dalla polizia. Due neri in una bella macchina, la solita storia. Solo che questa volta non è la solita storia. C'è appena stata una rapina in un bar di quelle parti. Una brutta rapina hanno ammazzato il padrone del locale e due clienti. E la polizia di Patterson si convince che sono stati proprio Rubin Carter e il suo amico a farla quella rapina. Rubin finisce dentro. Sostiene con tutte le sue forze di essere innocente. E continua a sostenerlo anche quando lo condannano all'ergastolo. Ma c'è qualcosa che non torna nella condanna di Rubin e del suo amico. Si forma un movimento di opinione internazionale che si batte per il conoscimento della loro innocenza. Ficché Rubin e il suo amico non vengono scacerati nel 1988 dopo più di vent'anni di galera. Tra gli artisti impegnati a battersi per Rubin Hurricane Carter c'è anche Bob Dylan che gli dedica una canzone. Sui rapporti di polizia c'è scritto Pollastro. Ma è un errore perché lui si chiama Pollastri. Sante Pollastri. Sta in quei rapporti perché viene considerato un pericoloso sovversivo. Siamo negli anni venti. Un anarchico. Anzi di più. Sante Pollastri nei rapporti di polizia viene indicato come il pericolo pubblico numero uno. Come per i gangster in America. E in effetti, Sante Pollastri è un osso duro. È latitante. I carabinieri e la polizia lo cercano ma quando lo trovano non riescono a prenderlo. Perché Sante Pollastri spara benissimo e nei conflitti a fuoco ha sempre la meglio lui. Ci sono leggende su questo. Dicono che un giorno un marescello dei carabinieri, trovandoselo di fronte, impazzì per la paura. In ogni caso, leggendo o non leggende, di carabinieri Sante Pollastri ne uccide sette. Insomma, Sante Pollastri mette proprio paura. Pollastri ha un amico, un ciclista, no anzi di più, più che un ciclista, un campione, che si chiama Costante Girardengo. Sono tutti e due di Novi Ligure. Si conoscono da tempo. E Sante Pollastri è un appassionato di ciclismo e un tifoso di Girardengo. È proprio così che lo prendono. A Parigi, durante una sei giorni di ciclismo, a cui partecipa anche Girardengo. Sante è sempre in movimento, per questo non lo prendono mai. Ma quella volta si ferma per seguire le corse. E così la polizia francese lo arresta. Un giorno del 1984, un anziano signore che vive nella brughiera di Saddleworth, vicino a Manchester, in Inghilterra, sente una canzone che suona in un jukebox, in un bar. È una canzone degli Smiths e viene dal loro primo album. Si chiama Little Suffer Children ed è una canzone molto bella e molto malinconica, come lo sono quelle degli Smiths. All'anziano signore, però, quella canzone sembra terribile, tanto che corre subito alla polizia e ai giornali per denunciare Paul Morrissey e gli altri musicisti del gruppo. Perché parla di sua nipote John, che è uno dei cinque bambini uccisi da una coppia di serial killer negli anni Sessanta, Ian Bradley e Myra Hindley, gli assassini della brughiera. Ian e Myra erano una coppia di piccoli criminali, appassionati delle opere di Nietzsche, del marchese de Saddle e del paganesimo nazista. Hanno fantasie morbose, sadiche e violente e un giorno cominciano a metterli in pratica. Tra il 1961 e il 1965 rappiscono e uccidono cinque ragazzini tra i 17 e i 10 anni, gettando nel terrore i villaggi e le cittadine della brughiera. Quando li prendono, non finiscono sulla forca soltanto perché la pena di morte in Inghilterra è stata abolita un mese prima. Per questo il nonno di John denuncia gli Smith. Ma Paul Morrissey si difende, aveva più o meno l'età di quei bambini in quegli anni e quella storia lo ha colpito moltissimo. E non è compito di un musicista cantare le storie che lo hanno colpito. Qualcuno ha mai sentito parlare di Stan? È stato il più grande fan di Eminem di tutti i tempi, anche se così come lo conosciamo è esistito soltanto in una canzone e in un video. Ma non importa, perché anche se non è del tutto una persona reale, Stan è il simbolo di tante brutte storie che sono accadute nel mondo del rock. Lui si chiama Marshall Bruce Matters III, ma è più noto come Eminem. Stan ha tutti i suoi dischi e vive tra pareti coperte dei suoi poster. Ha anche il nome di Eminem tatuato sul petto, però ha un problema. Gli ha già scritto due lettere ed Eminem non gli ha ancora risposto. Così gliene scrive una terza ed è una lettera molto inquietante. In realtà il problema di Stan non è che Eminem non gli risponde. Il problema di Stan è la sua vita, che non gli piace, e lo porta ad identificarsi morbosamente con Eminem, ad ossigenarsi i capelli come lui, a renderlo responsabile di tutto quello che gli succede. Così Stan, una notte di tempesta, si bombarda di antidepressivi, si scola una bottiglia di vodka, mette la fidanzata incinta nel baule della macchina e va a gettarsi in un fiume da un ponte sull'autostrada. Non è mai accaduto, per fortuna, non così comunque, ma non importa. Che si ispirino a fatti criminali o che li inventi, non sempre quello restano, canzoni. Che invece d'amore parlano di morte e di mistero. Grazie a tutti.